ora il bianco vai dai su banca scatti va ci indirà bene su? si, se si dia il rumore va lanta scatti va eh? va lanta scatti più bianco ma che cazzo? a me ha la carticigia che te vi angolo ah è puro via non c'è un grigio sta per giro Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' un descargo Vai e 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 Sì, è un po' di più, è un po' di più. Sì.